Curiosità e attenzione questa mattina per la presenza e le parole del direttore generale scolastico delle Marche, Ugo Filisetti. Un primo giorno di ritorno tra i banchi, particolare per gli studenti della scuola Media Leopardi di Pesaro, che hanno avuto il piacere di ospitare e di ricevere il saluto del dirigente scolastico marchigiano, che ha scelto proprio questo istituto per inaugurare simbolicamente l'inizio della scuola nella regione. Questo è un istituto importante, tra l'altro quest'anno ha un nuovo dirigente e quindi è un modo per augurare un buon lavoro a tutti i nuovi dirigenti che quest'anno assumono il loro ruolo nelle nostre scuole, sono più di 25 su circa 200, quindi quest'anno abbiamo avuto un certo ricambio e quindi proprio per augurare tutti questi nostri colleghi che iniziano la loro esperienza di dirigenti scolastici in un nuovo istituto, ecco, anche come per gli altri casi, anche qui alla Leonessa, la dirigente Leonessa per i Leopardi, la nostra presenza ha un significato di particolare augurio. Lo stesso impegno chiediamo anche ai nostri ragazzi e ricordiamo ai nostri ragazzi di dare, in modo tale che il loro percorso, che si chiuderà ovviamente con gli esami di Stato e quindi con il sostizio di questo percorso, consente a loro questo percorso di poter interrare nella comunità nella quale si andranno a realizzare la loro vita interpretando la figura professionale e soprattutto il loro ruolo di cittadini consapevoli ed attivi così che questa comunità continui a crescere così come è cresciuta negli anni scorsi, nei tempi scorsi, nei secoli scorsi se vogliamo dire grazie proprio all'impegno di chi ci ha preceduto. È vero che tutte quelle limitazioni che erano sino all'anno scorso imposte nelle scuole sono venute meno per le ragioni che le autorità sanitarie hanno ritenuto esserci e quindi il venire meno in queste limitazioni ci consente di riprendere l'attività in modo più tranquillo e meno faticoso, ecco, diciamo così. Queste le parole utilizzate da Filisetti per augurare un buon anno scolastico a tutti gli studenti altri invece i termini che ieri ha usato generando successivamente diverse polemiche fondare l'impegno a scuola sull'adempimento del dovere con fede, onore e disciplina non arrendersi, i vostri bisnipoti sappiano almeno che ci fu chi non alzò le braccia ma continuò a battersi queste alcune delle frasi pronunciate dal direttore Filisetti per incitare gli alunni in vista del nuovo percorso scolastico alle porte, contestate però dalla sinistra politica compreso il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Abbiamo più volte evidenziato l'inappropriatezza di questi messaggi ideologicamente anche abbastanza preoccupanti l'abbiamo detto in tutte le salse, sono state fatte interrogazioni parlamentari quindi io non ritengo adeguata una comunicazione del genere la ritengo sbagliata da molti punti di vista e insomma ribadiamo il nostro pensiero.